Gianni Ferraguti, la fratellanza impegnata nel weekend non solo con le gare in pista ma anche in eventi della promozione dell'atletica? È una cosa abbastanza particolare, per il secondo anno saremo nel piazzale di Decathlon a promuovere l'atletica leggera. Lo scorso anno avevamo avuto la posizione di fare lancio del Vortex, di fare velocità, di fare salto con l'asta. Quest'anno abbiamo cambiato le discipline, saranno il getto del peso, sarà il salto in alto e sarà di nuovo la velocità. Nella velocità due piste stese nel piazzale di Decathlon dove daremo ai ragazzi che proveranno un'indicazione abbastanza strana, quella della velocità che hanno raggiunto nei 20 metri, quindi sarà un motivo di andare a casa con un fogliettino sul quale scriveremo sopra la velocità che il ragazzo ha raggiunto. Chissà, l'anno prossimo potrebbe sicuramente aver lavorato per migliorare quella velocità. Per noi è un modo di promuovere l'atletica leggera, visto che abbiamo tante iniziative a livello su pista, questa volta siamo in un piazzale di un mercato. Un'iniziativa rivolta a tutti, ovviamente soprattutto ai più giovani, un movimento che la fratellanza coltiva in maniera importante. Certamente, è rivolto soprattutto ai giovani, infatti l'invito di alcuni tecnici o ragazzi del nostro campo, che saranno ad accogliere i ragazzini che si presentano per andare a fare acquisti e verranno a provare queste discipline diverse che probabilmente non hanno mai provato.